Questo video riguarda i migliori tre carrelli portapacchi. Il vincitore della qualità nel nostro carrelli portapacchi va al carrello trasporto. Carrello trasporto grandi volumi, ruote pneumatiche, portata max 250 kg, peso del pacchetto 8,92 kg. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Athlon Tools carrello. La carriola è particolarmente ideale per tutte le esigenze di trasporto nell'ambito di acquisti, oggetti domestici o giardinaggio, tutte le parti portanti sono realizzate in robusto alluminio. La portata massima è di 70 kg. Il peso netto è di soli 3,2 kg. La superficie di carico misura 39 x 28 cm. Le ruote e le sospensioni delle ruote sono dotate interamente di cuscinetti a sfera, che le rendono particolarmente lisce e durevoli. I battistrada morbidi grigi permettono alle ruote di scorrere senza fare rumore e senza lasciare tracce. La carriola a essere aperta è chiusa in un battibaleno. Può essere riposta comodamente in qualsiasi bagagliaio, capanno da giardino o ripostiglio. Una carriola in alluminio pronta all'uso, due funi di espansione per fissare i carichi, una fattura digitale e un servizio clienti cordiale e disponibile. Il vincitore della performance premio nel carrelli portapacchi è il Ainel BTHT90. Il carrello richiudibile Ainel BTHT90 è costituito da un robusto telaio di alluminio e con una portata massima di 90 kg a un peso proprio molto contenuto di poco più di 5 kg. Di conseguenza il carrello portacassette è flessibile nell'uso e può essere impiegato anche dove le condizioni spaziali sono ristrette. Il carrello Ainel è dotato di un dispositivo di bloccaggio dell'impugnatura estraibile nonché di una base di sostegno in alluminio ripiegabile. Per agevolare il trasporto di merci pesanti, le ruote gommate sono dotate di boccole in metallo. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.